Bene, oggi riprendiamo la pulsione di morte e vediamo adesso in che cosa consiste. Abbiamo già dedicato un video a questa pulsione di morte per spiegare che cosa ha spinto Freud a interessarsi, a sviluppare, a introdurre questa nozione, questa pulsione di morte. Bene, era la coazione a ripetere, questa tendenza molto forte a spingere l'essere umano a ripetere, a riportare delle cose del passato, a ritornare al passato, nonostante poi il dispiacere che questo porta. Ed è questo che Freud non riesce a spiegarsi con il principio del piacere, cioè il principio del piacere non è sufficiente a spiegare come mai c'è questa tendenza a ripetere delle situazioni, presenta la situazione passata, nonostante l'inconveniente e il dispiacere che tutto questo porta. E a questo punto Freud deve un po' rivedere alcuni aspetti, soprattutto gli aspetti della della pulsione, perché qui è una spinta molto forte a ripetere e spinta evoca insomma il mondo delle teorie, la teoria delle pulsioni. Freud come sempre, come lo dice bene in questo scritto, si è già dall'inizio, quando ha introdotto l'impulsione, si era basato sull'aspetto biologico, la fame e il sesso, perché per Freud la pulsione è un concetto, lo dice bene nel saggio di metapsicologia, è un concetto limite tra l'organico, il biologico e lo psichico. Per cui quando si introduce, quando si indaga, si fa un'indagine su una pulsione, bene, inevitabilmente si deve andare a vedere se c'è una base organica e quello che ha fatto dall'inizio all'inizio era fame e il sesso, pulsione di autoconservazione, la fame serve per sopravvivere, serve per conservarsi, conservare l'io, pulsione di autoconservazione dell'io che si oppone all'altra pulsione che è la pulsione sessuale e da questa opposizione, da questi conflitti poi nascono anche dei processi neurotici, problematici dal punto di vista psichico. In seguito, quando Freud introduce il narcisismo, va a cambiare questo dualismo pulsionale e va introdurre un dualismo libidinale, ma rimane sempre una base organica, c'è la pulsione sessuale. Cos'è questa introduzione del narcisismo? È che si accorge, Freud, che l'io può essere se stesso, può essere, anzi è nel processo di sviluppo di ogni essere umano, è un oggetto dell'investimento libidinale, cioè uno si prende se stesso come oggetto d'amore e dunque diventa un serbatoio della libido e l'altro poi, gli oggetti esterni, sono l'investimento della libido e là si trova un altro dualismo, non è più un dualismo pulsionale perché in ambi casi è la libido, è un dualismo libidinale, cioè la libido dell'io e la libido dell'oggetto oggettuale. Per cui c'è anche qui una base organica. Allora, se si deve interessare a capire questa spinta molto forte a ripetere, Freud deve andare a vedere dal lato della biologia. E si può dire che mai, come in questo scritto, al di là del principio del piacere, Freud abbia dedicato così tante pagine alla biologia. Qui non andiamo tanto nei dettagli, perché ci vorrebbe un altro video solo per andare in dettagli, Freud si avale di alcuni eminenti biologi per mettere, per sottolineare alcuni aspetti che questi invece li possiamo riassumere brevemente. Il primo aspetto è che il primo momento dell'evoluzione, quando si vede emergere la vita, il passaggio dell'inorganico all'organico, ebbene quando appare l'organico in sé c'è anche una tendenza a riportare lo stato organico a uno stato inorganico. E qui già si vede evocare un po' questo aspetto biologico che era il corrispettivo dell'aspetto psichico. Cioè, la coazione ripete, cioè il passare da uno stato attuale a uno stato del passato, a voler riportare lo stato attuale a uno stato del passato. in un secondo tempo accade che la cellula va a unirsi ad altre cellule, si passa a un processo pluricellulare. In questo passaggio di una cellula a unificarsi con altre cellule, ebbene, sussista ancora, persista ancora, questa tendenza biologica di disunificare, cioè di distruggere questa unificazione tra cellule. E questo processo, che è sottolineato da Freud, ebbene, sarà messo, e sarà accettato dal mondo scientifico, messo in evidenza, nel 1972, processo biologico chiamato apoptose. L'apoptose è un processo biologico che porta le cellule a autodistruggersi. E questo, negli esseri umani, si manifesta in diversi processi fisiologici, che qui non stiamo a vedere, ma che ognuno può andare a vedere su internet. E nel 1999 c'è un immunologo, che si chiama Jean-Claude A. Manson, che va a interessarsi a questo processo biologico chiamato apoptose, e va a sottolineare la similitudine sorprendente tra questo processo relativamente recentemente messo in evidenza, scoperto e sviluppato nel mondo della biologia, con la pulsione di morte di Freud. Ecco, questo è un po' l'aspetto molto importante, e ci si può dunque facilmente immaginare come se Freud avesse scritto, al di là del principio del piacere, negli anni 2000, avrebbe fatto riferimento a queste scoperte e a questo processo poi stabilito nel campo della biologia, che è questo processo apoptose. Bene, continuiamo con Freud. Questo processo di unificare, dunque da una cellula a più cellule, bene, questo processo poi continua, c'è un'evoluzione ulteriore che sarà quello poi della riproduzione, cioè come la vita si riproduce e lì interviene la sessualità. Per cui la sessualità, la pulsione sessuale, non è altro che un aspetto di quella tendenza più generale che è la tendenza a unificare. Per cui pulsione sessuale è una parte di quella tendenza, di quella pulsione a unificare. mentre c'è questa tendenza a riportare uno stato, attualmente uno stato passato da organico a inorganico, a disunificare quello che è stato unificato, dunque pulsione di morte, e c'è un'altra pulsione che è quella di unificare la pulsione di vita. E qui Freud si fa riferimento, in questo scritto, a due filosofi, Schopenhauer, che per quanto riguarda la pulsione di morte, che per questo filosofo la tendenza ultima è quella, la tendenza alla morte, e per quello che è invece la pulsione a unificare, si riferisce a Platone, il mito di Aristofane, il mito in cui due esseri umani sono attaccati e poi vengono tagliati e ci sarà questo desiderio di ritrovare la propria parte che è stata staccata. E questo mito, Aristofane, è il mito che rappresenta un aspetto dell'amore per Platone. E dunque Freud si rifà questo mito per parlare di questa tendenza a unificare, e dunque va a utilizzare la parola greca eros. Eros, dunque, sarà la pulsione di vita, la pulsione che è questa tendenza a unificare, mentre Thanatos, la pulsione di morte, è quella pulsione che è quella tendenza a disunificare e a riportare uno stato organico a uno stato inorganico, uno stato attuale a uno stato precedente. Adesso vediamo un po' come si manifestano queste, come si percepiscono queste pulsioni. Allora, qui Freud va a indagare anche il funzionamento della coscienza, non andremo troppo, non andremo a spiegarne i dettagli, che anche lì ci vorrebbe un video a parte, ma diciamo così, con qualche parola, che la coscienza percepisce gli effetti della pulsione sessuale. Semplicemente basta evocare il principio di costanza, cioè quando c'è un aumento di tensione, la coscienza percepisce questo aumento come dispiacere, quando invece, ecco, è questo il principio del piacere, e lo scopo di ridurre questa attenzione, la coscienza percepisce questo come piacere. E dunque la coscienza percepisce continuamente questi sbalzi così, di tensione che poi procura piacere o dispiacere in funzione del apparire o sparire della tensione. Mentre la pulsione di morte, la coscienza non la percepisce, è silenziosa. E allora come si manifesta? Beh, si manifesta attraverso, ecco, certi processi, come per esempio quello di cui fu l'inizio del capitolo dell'aldilà del principio del piacere, cioè cosa ha spinto Freud a parlare della pulsione di morte, la coazione a ripetere. Si manifesta con quello, cioè voler riportare quello che sia adesso in uno stato precedente, dunque il passato che torna. E l'altro, 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 si può dire, l'altra manifestazione della pulsione di morte, che è molto evidente, è quello del principio del nirvana. Cos'è il principio del nirvana? Beh, il principio di costanza stipulava che l'obiettivo dell'apparato psichico è quello di mantenere il più basso possibile le tensioni, il principio del nirvana, invece, dice che c'è una tendenza a volere ridurre completamente le tensioni, e dunque di riportare lo stato psichico in uno stato di totale riposo, cioè a uno stato organico, dove c'è la vita, dove c'è il movimento, a uno stato inorganico, dove c'è il riposo assoluto. E un momento che percepiamo, che la coscienza percepisce questo, che è percepito come piacere, è il godimento sessuale, è l'atto sessuale quando si ha l'orgasmo, ma beh, si ha questa caduta, che certamente è un piacere immenso, ma dopo c'è questo momento finale in cui si è in uno stato di riposo assoluto. E là si ha un passaggio dallo stato organico, lo stato corrispettivo di quello che accade nel campo biologico, al passaggio organico, al passaggio inorganico, nel campo psichico. Poi c'è un altro aspetto, un altro fenomeno psichico che si riallaccia alla pulsione di morte, che è il sadismo. Senza andare nei dettagli, abbiamo già dedicato un video su questo, due o tre video su questo. Bene, c'è quello che va a spiegare il sadismo e un masochismo originario, primario. Bene, possiamo chiudere con queste osservazioni come si manifesta la pulsione di morte, che non è percepita dalla coscienza, con un ultimo aspetto, che è come Freud prende lui stesso questa teoria della pulsione di morte, di questa opposizione di due pulsioni, pulsione di morte e pulsione di vita. Dice Freud, ma fin dove io credo io stesso a questa pulsione di morte? Beh, non lo sa neanche lui. Cioè, ammette che c'è una parte di speculazione molto, molto, molto forte, perché ci si allontane anche molto dai dati osservabili direttamente. E poi dedica qualche riflessione sul fatto del... Ma se io sviluppo questa pulsione di morte è perché io stesso ho, come dire, una questione, una predisposizione rispetto alla morte? Beh, lì Freud dice, beh, come tutti, tutti quando sviluppiamo certe teorie o quando apprezziamo una teoria piuttosto che un'altra teoria è perché sotto sotto, beh, abbiamo un qualcosa in noi che ci predispone più di più ad accettare una teoria. Però nonostante questo, dice Freud, ho fatto il possibile per limitarmi a quello che è la razio, la razionalità e a sviluppare la logica, a sviluppare il più possibile i ragionamenti dal punto di vista logico. Però ecco, in ogni caso, adesso questa teoria l'ho esposta qui, questo dualismo pulsionale introdotto alla pulsione di morte, vedremo con il tempo, con i dati della psicoanalisi, con un'altra riflessione, con gli altri apporti, gli altri contributi di altri psicoanalisti, vedere se questa teoria può continuare a essere accettata. Se ci porta, se ci dà qualcosa di positivo, beh, continueremo ad appoggiarla. Se no, come abbiamo fatto nel passato, l'abbandoneremo. Ecco l'ultima riflessione di Freud. Ebbene, al prossimo video. Arrivederci.